I lavori ormai sono in fase di completamento, manca veramente poco, ci tengo a precisare, giusto per evitare le solite polemiche che circolano in città, questo è un finanziamento galla, nessuno ce lo ha tolto, qui c'è chi può confermarlo, al contrario, siamo stati veloci nel realizzare l'intervento, certo, stiamo già pensando di proseguirlo, probabilmente per fare questo utilizzeremo fondi di bilancio, in attesa che possa essere anche finanziato il secondo intervento, ma certamente c'è grande soddisfazione nel fatto che oramai questo intervento può dirsi concluso, mancano le piccole cose, mancano le piante, mancano i fiori, manca il gozzo che un po' connoterà l'intervento, essendo un intervento diciamo in un'area votata per la pesca, per la vocazione marinara della nostra città, diciamo che ormai è quasi tutto pronto, un altro pezzo che restituiamo alla nostra città in attesa di poter ottenere ulteriori finanziamenti e pensare veramente di, piano piano, guadagnare verso sud, verso Biceglie, sempre nuovi pezzi di costa.